Vediamo adesso la preparazione dei sali. Prima di tutto ricordo che per quanto riguarda i sali si possono classificare in sali neutri, sali acidi e sali basici. Prima di tutto vediamo i sali neutri. Per preparare i sali neutri normalmente sono possibili 4 reazioni. Di queste 4 reazioni però ce n'è una dal punto di vista teorico che è più importante perché attraverso questa si ottiene più facilmente la formula di struttura e poi si ottengono delle informazioni utili anche per il bilanciamento delle altre reazioni. Ma prima di tutto cominciamo con la nomenclatura e citiamo questa reazione più importante delle altre dal punto di vista teorico. Idrossido più acido forma sale più molta acqua. Per quanto riguarda la nomenclatura sempre tradizionale, che cosa succede? La parte relativa all'acido si mette davanti al, diciamo che è la parte iniziale del nome del sale e bisogna effettare una piccola sostituzione che potete vedere in questa sequenza. Oso diventa ito, per esempio acido solforoso diventa solfito, acido clorico diventa clorito. Scusate, qui c'è un errore. Ito è stato ripetuto due volte. In realtà, se noi avessimo l'acido clorico diventa clorato, scusate. Invece, il suffisso idrico dell'acido si sostituisce con uno, tipico esempio cloruro di sodio. Sotto potete vedere alcuni esempi di quello che è stato appena detto adesso. Una volta che abbiamo visto il modo per dare i nomi, cominciamo a vedere subito il primo esempio riguardante la preparazione dei sali. Abbiamo preso l'idrossido ferrico e l'acido perclorico, ottenendo quindi il perclorato ferrico. Vedete che il sale si ottiene prendendo dell'idrossido la parte metallica e dell'acido tutto quello che viene dopo l'idrogeno. Una volta che sono state prese queste parti, sopra bisogna scrivere la valenza in modo da poterla incrociare correttamente. Per l'idrossido ferrico, la valenza, prima di tutto diamo la definizione esatta. La valenza del sale, la valenza della parte metallica, dipende dagli OH persi. Quasi sempre questa è la valenza originale da cui siamo partiti. Non è la valenza originale quando noi trattiamo invece che i sali neutri, per esempio i sali basici. Invece la valenza dell'acido coincide con gli H persi. Quindi state attenti che ClO4 quindi è stato ottenuto partendo dal Cl che aveva valenza 7, eppure la valenza 7 non conta perché noi non abbiamo preso il Cl da solo. Se l'avessimo preso sarebbe 7 la valenza da utilizzare, ma abbiamo preso ClO4 e con ClO4 la valenza è 1 perché ClO4 è associato a solo un idroseno. Vedete che qui è stato costruito il sale, sopra è stato messo. Sono state costruite le valenze ottenute nel modo che ho indicato. Queste valenze sono state incrociate ottenendo il sale. Se, come qui potete vedere, prima di tutto 1, come al solito, non viene scritto ma si sottintende. E in ogni caso, se le valenze fossero semplificabili, bisogna semplificarle. Una volta che abbiamo visto quindi la costruzione e l'ottenimento della formula di struttura del sale, vediamo come si fa a bilanciare. Per bilanciare, vediamo la prima figura, il punto di partenza, che cosa è? La molecola di sale. La molecola di sale si pone uguale a 1 e da questa molecola si ricavano subito direttamente metallo e non metallo. Quindi non preoccupiamoci di ossigeno, idrogeno e altri elementi. Qui, vedete, abbiamo posto uguale a 1 questa molecola, quindi abbiamo un atomo di ferro e abbiamo tre atomi di cloro. 1 e 3, quindi, sono i due coefficienti da posizionare in corrispondenza dell'idrossido e dell'acido. Questo sarebbe praticamente il secondo passaggio, quindi si pone questo uguale a 1. Da questo ci ricaviamo metallo e non metallo, cioè idrossido e acido. Una volta che abbiamo ottenuto, bilanciato l'idrossido e l'acido, vedete che, in pratica, per il sale è quello che conta, il ferro, e per l'acido ClO4. Quindi, che cosa significa? Che quello che non è stato utilizzato, cioè gli OH da questa parte e gli H da questa parte, servono per costruire l'acqua. Nei sali neutri, vedete benissimo che il numero degli OH deve essere uguale al numero degli H, ciascun OH si lega con un idrogeno e si forma una molecola d'acqua, e quindi potete vedere che sono state ottenute tre molecole d'acqua. Quindi, nell'ultima fase del bilanciamento, che cosa bisogna osservare? In base al numero degli OH e in base al numero degli H, si scrivono le molecole d'acqua, e la reazione si può considerare bilanciata. La sottolineatura, che è qui presente, evidenza questi tre passaggi. Porre uguale a 1 la molecola del sale, ricavare metallo e non metallo, dal metallo e dal non metallo, ricavare gli OH e gli H, che devono essere in quantità uguale, per bilanciare la molecola dell'acqua. Sono stati inseriti un po' di esempi, in modo che possiate tranquillamente prendere dimestichezza con questo bilanciamento. Vedete che in questo caso è stato preso l'ortofosfato di alluminio, derivando dall'acido ortofosforico e dall'idrossido di alluminio. Vedete che in questo caso la valenza 3 dell'alluminio A3, la valenza del gruppo PO4 e 3, posizionate le valenze nel luogo corretto, incrociate, anche se non è facile capire perché sono due numeri identici. Tra i tre si semplificano, si ottiene 1, ottenendo 1 non si scrive il numero, non solo, ma essendoci 1 vicino alla parentesi, si omette tranquillamente la parentesi. Abbiamo ottenuto il sale, da questo sale ci ricaviamo metallo e non metallo, dal bilanciamento dell'idrossido e dell'acido ci ricaviamo di OH e di H, che insieme, essendo nella stessa quantità, forniscono tre molecole d'acqua, e quindi abbiamo completamente bilanciato perfettamente la reazione. Vediamo a questo punto ancora un esempio e stavolta prendiamo un idracido, quindi acido cloridrico e il sale diventerà automaticamente cloruro. Non confondere idrico, dell'acido cloridrico, con l'acido clorico, che è decisamente diverso, è un ossiacido, e che ha come disidenza ato, quindi clorico diventa clorato, cloridrico diventa cloruro. Vedete che qui avete il cloruro ferroso, le stesse identiche fasi che abbiamo visto prima, identificazione corretta del sale mediante l'incrocio delle valenze. L'unica differenza è che qui, non essendoci un gruppo non metallo-ossigeno, essendoci solo il non metallo, non c'è bisogno della parentesi, però il cloro continua ad avere valenza 1, perché ha solo un idrogeno davanti, quindi, incrocio delle valenze, il ferro OH2 ha perso 2 OH, quindi la valenza del ferro è 2, il CL ha perso un idrogeno, valenza 1, incrocio, ottenimento del cloruro ferroso in FeCl2. Partendo dal sale, sistemazione del metallo e non metallo, ottenimento degli OH e degli H nella stessa quantità, e quindi possiamo dire di aver ottenuto, in questo modo, due molecole d'acqua, e la reazione si può considerare felicemente, brillantemente, bilanciata. Vediamo adesso le reazioni alternative di salificazione. Vi avevo appena detto che, in realtà, per produrre il sale, dal punto di vista sperimentale, ci sono 4 reazioni che praticamente sono equivalenti. E ho detto che è una reazione più importante, ma solo dal punto di vista teorico. Adesso vediamo tutte le reazioni di salificazione. Però è comodo partire dalla reazione che abbiamo visto adesso, cioè idrossido più acido. È possibile, avendo solo l'idrossido e l'acido, senza bilanciare, capire subito le molecole d'acqua che saltano fuori. Perché? Che cosa basta fare? Moltiplicare il numero degli OH per il numero degli H. Quanti OH ci sono qua? 2 per 1, totale 2 molecole d'acqua. Infatti, vedete che il bilanciamento finale, alla fine, richiede e produce l'ottenimento di 2 molecole d'acqua. In realtà, non basta, e lo vedete bene scritto in questa formula, non basta per ottenere la molecola d'acqua, moltiplicare il numero degli OH per il numero degli idrogeni dell'acido, ma bisogna dividere anche questo prodotto per il massimo comundivisore dei due numeri. Questa operazione è dovuta al fatto che, quando si costruisce il sale, se i pedici sono semplificabili, bisogna semplificarli. Vediamo in una tabella alcuni semplici esempi di questa regola. Vedete che, in questo caso, avete l'idrossido generico, in cui sono presenti N OH, in realtà, però, il numero massimo di OH presenti in un idrossido può essere al massimo 4, e sono molto rari quelli che hanno 4 ossidrili, cioè gruppi OH. Vedete che anche qui sono presenti più di un idrogeno dentro l'acido. In realtà, già gli acidi con 3 non sono molto frequenti, acidi con 3 idrogeni e acidi con 4 sono rarissimi. Vedete che, se io combino un idrossido con un acido, a seconda dei casi, qui viene illustrata il numero di molecole d'acqua che si ottengono. In questi casi, illustrati in rosso, servono solo a far vedere quando il massimo comundivisore, che bisogna calcolare e che è fondamentale, perché bisogna dividere il prodotto per il massimo comundivisore, e che cosa rappresentano questi esempi in rosso? Quando il massimo comundivisore tra i due numeri è diverso da 1. Infatti, 2 per 2 farebbe 4, massimo comundivisore tra 2 e 2 è ovviamente 2, quindi 4 diviso 2 è risultato 2. 4 per 2 è 8, massimo comundivisore 2, 8 diviso 2 è 4. Invece, in questo caso, per esempio, 1 per 3, il massimo comundivisore è 1, quindi 1 per 3 significa 3 diviso 1, e quindi ovviamente 3. Il bilanciamento, perché è così importante calcolare il numero di molecole d'acqua? Perché se voi avete bilanciato correttamente la prima reazione, automaticamente le altre reazioni vengono bilanciate dalla parte dei prodotti, solamente dalla parte dei prodotti, ma questo significa semplificare enormemente la procedura del bilanciamento, sfruttando la regola che è scritta qua sotto. Ma prima, cerchiamo di capire la regola che è scritta qua sotto in cosa consiste quella che è evidenziata in questo rettangolo. Se voi avete un numero di molecole d'acqua della prima reazione e un numero di molecole pari, nelle altre reazioni le molecole di sale saranno sempre uguali a 1 e le molecole d'acqua sarebbero la metà. Se invece il numero di molecole d'acqua della prima reazione è dispari, se vogliamo si sfrutta la stessa regola, perché nelle altre reazioni si dovrebbe ottenere una molecola di sale e un numero pari a metà delle molecole d'acqua, che però essendo dispari producono una frazione non semplificabile. Per evitare questo, che cosa fa? Si fa, si moltiplica per 2 il coefficiente stechiometrico sia del sale sia quello dell'acqua. E quindi in pratica, che cosa succede? Nelle altre reazioni, le molecole di sale raddoppiano e invece le molecole d'acqua continuano a essere quelle uguali della prima reazione. Ma è inutile perdersi adesso in questa teoria, sono cose più difficili a dirsi che non a vedersi. Prima però vediamo quali sono, attraverso questo semplice schema, le altre 4 reazioni possibili. E perché le due reazioni producono poca acqua? Vedete, la reazione principe, quella che noi abbiamo visto, è questa. L'idrossido più acido, che dà il sale più molta acqua. Un'altra reazione che produce il sale ma senza acqua è l'ossido anidride. E allora capite perché voi avete l'idrossido più acido che fornisce sale più molta acqua. Potete scomporre l'ossido come, giustamente è, ossido più acqua e l'acido come anidride più acqua. Ossido e anidride tendono a formare sale e quindi che cosa succede? Si forma dell'acqua che deriva sia dall'idrossido sia dall'acido. Se invece noi abbiamo le due reazioni alternative, quindi ossido e acido, che cosa avremo? Ossido e acido significa, come dire, ossido più anidride. E quindi si ottiene ossido e anidride sale più rimane dell'acqua, ma l'acqua deriva solo dall'idrossido e quindi ovviamente ce ne sarà di meno perché l'anidride non porta con sé nessuna molecola d'acqua come invece portava l'acido. Stessa cosa per l'altra situazione in cui avete ossido più acido. Vedete, l'acido si può scomporre come anidride più acqua. Ossido e anidride formano il sale, si forma il sale e l'acqua che era presente dentro l'acido rimane come prodotto di reazione, però rimane solo quella che deriva dall'acido e quindi si otterrà chiaramente meno acqua. A questo punto possiamo tranquillamente vedere gli esempi e lo schema per costruire le reazioni. Prendiamo il solfato di calcio, il gesso comunemente usato sia nell'edilizia sia per scrivere alla lavagna e vedete, per scrivere correttamente la reazione, la prima cosa fondamentale è partire dalla reazione teorica più importante, cioè questa, idrossido più acido, correttamente bilanciata. Vedete che il bilanciamento porta due molecole d'acqua. Io vi consiglio, ma solo naturalmente per semplificare la procedura, di scrivere in un angolo del foglio le quattro molecole che vi servono, cioè idrossido e l'acido, che sono tipiche della prima reazione, inoltre l'ossido e l'anidride corrispondenti. Allora vedete, voi avete scritto la prima reazione, automaticamente potete scrivere subito, scrivere al di sotto di questa, fare tre frecce e indicare i tre prodotti che sono tipici, perché sono presenti nelle altre reazioni, cioè il sale e l'acqua nella seconda e nella terza e il sale senza l'acqua nella terza, nella quarta reazione, contando anche la prima. A questo punto potete già bilanciare automaticamente questi prodotti, facendo che cosa? Osservando, come vi ho già detto, il numero di molecole d'acqua della prima reazione. Vedete che il numero è pari, che cosa basta fare quindi? Il numero di molecole di sale continua a essere pari a uno e invece il numero di molecole d'acqua si considera dimezzato. A questo punto potete scrivere l'ultima reazione, che è quella che fornisce l'ossido e l'anidride che dà il sale senza acqua. Le altre, che cosa saranno? Saranno, diciamolo pure, i due casi intermedi, quella che io chiamo diagonale dello schema. Diagonale della schema che cosa vuol dire? Idrossido più anidride, sarebbe la seconda reazione. Seconda diagonale è ossido più acido. Una volta che avete scritto le reazioni, se questa parte, cioè se i prodotti sono già bilanciati, per mettere a posto la reazione che cosa basta fare? Basta semplicemente andare a vedere metallo e non metallo e poi tutto il resto, cioè ossigeno e idrogeno, tenderanno a essere automaticamente uguali. Naturalmente, essendo la quantità di sale presente tra i prodotti la stessa, in tutte le reazioni il metallo e il non metallo saranno presenti nella stessa quantità. Vedete, in tutte le reazioni voi che cosa avete? Un atomo di metallo e in questo caso un atomo di non metallo. Adesso vediamo come esempio una molecola d'acqua in cui, una scusate, una reazione di sale in cui il numero di molecole d'acqua non è pari come prima, ma è dispari. La reazione è quella che produce l'ortofosfato di rameoso. Vedete che il numero di molecole d'acqua è pari a 3, bastava anche fare OH per H, nell'idrossido rameoso è presente solo 1H, nell'acido ortofosforico sono presenti 3 idrogeni, 1 per 3 è 3 molecole d'acqua. A questo punto, in base alla regola che ho già citato, in pratica saltiamo subito la fase finale senza fermarsi in situazioni intermedie, che cosa basta fare sotto? Se queste dispari sotto il numero di molecole d'acqua sarà uguale, quindi 3 sotto saranno 3 molecole d'acqua, e invece il sale raddoppia in tutte e 3 le reazioni. Notare, raddoppia anche nella reazione ultima dove non è presente l'acqua. A questo punto abbiamo costruito la prima, abbiamo costruito i prodotti e li abbiamo già bilanciati. Andiamo a prenderci per l'ultima l'ossido e l'anidride, e poi in base a, come vi avevo detto, la diagonale dello schema, che cosa prenderemo? Ossido e acido, e sarà la terza reazione, e poi, che cosa? L'altra diagonale, idrossido e anidride. A questo punto, una volta che sono state scritte le reazioni, per bilanciare che cosa facciamo? Contiamo quanti sono i rami, gli atomi di rame, scusate, e gli atomi di rame quanti sono? Tutte le reazioni, la quantità di sale è la stessa, quindi gli atomi di rame saranno 2 per 3, cioè 6 atomi di rame. Posizione A, bilanciamo dappertutto i composti del metallo, facendo sì che ci siano 6 atomi di rame, vedete che qui bisogna mettere un 6, qui essendoci come pedice un 2, bisogna mettere un 3. Gli atomi di fosforo, invece, devono essere 2, qui sono già presenti, quindi il coefficiente sarà 1, qui non essendo il pedice di P, non essendo 2, devo mettere un 2 davanti per avere due atomi, e qui invece, essendoci 2 come pedice, basta mettere 1, io avrò automaticamente 2 atomi di fosforo. Così facendo, vedete che automaticamente ho sistemato i prodotti, dai prodotti senza complicazioni, direttamente ho scritto metallo e non metallo e tutto viene bilanciato, ossigeno, idrogeno e affini. Adesso che abbiamo visto un po' di esempi collegati ai sali, che sono, fino adesso, considerati sali neutri, vediamo invece quelli che si considerano i sali acidi. Nel costruire le reazioni di preparazione, le formule collegate ai sali acidi e bassi, ci ricordiamoci una regola fondamentale che sarà ripetuta più volte, cioè il nome del sale si determina su quello che rimane, la valenza su quello che si stacca. Vediamo subito una formula che evidenzi quello che vi avevo detto. Come al solito partiamo, e in questo caso è l'unica, scusate per il problema tecnico. Allora, torniamo adesso a esaminare quello che stavo dicendo, cioè che la valenza si determina su quello che si stacca. Vedete che qui avete l'idrossido di alluminio e, se io formo il sale neutro, dall'idrossido di alluminio si staccano tutti e tre gli ossidrilli, il gruppo OH. Se invece abbiamo un sale basico, un qualche OH può rimanere agganciato e in questo caso si è visto e fatto l'esempio in cui un OH rimane agganciato, due si sono staccati, la valenza con cosa coincide? Con quello che si stacca e quindi la valenza di questo gruppo sarà due. Un altro modo per calcolare questo due, che in cosa consiste? quello che c'era prima, tre, meno quello che è rimasto, uno, totale due. Se noi invece abbiamo il gruppo acido, cioè H3PO4, noi che cosa abbiamo? Stiamo ben attenti, come vi avevo già detto prima. Per costruire questo acido abbiamo avuto bisogno dell'anidride e di sommare questa anidride con il fosforo che con l'arsenico e il boro fa eccezione e la reazione di acidificazione richiede tre molecole d'acqua. ma non è questo che è quello che conta. Nel fosforo, a parte le tre molecole d'acqua, abbiamo avuto bisogno di utilizzare la valenza 5. Ma la valenza 5 non ci interessa quando si forma il sale neutro, perché la valenza del gruppo acido dipende da quanti idrogeni si staccano. Nei sali neutri si staccano tutti gli idrogeni, quindi questo gruppo avrebbe valenza 3. Se invece abbiamo un sale acido, non tutti si staccano, e qui per esempio è mostrato l'esempio in cui 1 rimane, e quindi la valenza coincide con quello che si è staccato, cioè in questo caso la valenza sarà 2. Di nuovo questo 2 come si può calcolare? Il numero di idrogeni che sono presenti prima, meno 3, cioè quindi, meno il numero di idrogeni che sono rimasti, 3, meno 1, totale valenza 2. A questo punto, se abbiamo capito questo, possiamo evidenziare le diverse fasi di questa operazione. Prima di tutto bisogna ricordarsi che per costruire sia i sali acidi che i basici si parte, esattamente come abbiamo visto per i sali neutri, dall'idrossido e dall'acido. Con un semplice calcolo si valuta il numero di sali acidi facendo il numero degli idrogeni, meno 1, e il numero dei sali basici facendo il numero dei gruppi ossidrilli OH, meno 1. A questo punto si scrivono i nomi dei sali acidi o basici possibili collegati alla molecola di partenza, inserendo tra il termine associato al non metallo e quello del metallo i termini specificati nella tabella che vedremo subito. Per costruire il sale, ricordiamo la solita regola che vi deve entrare bene in testa tatuata a fuoco, il nome si basa su quello che si lascia, la valenza su quello che si stacca. Allora, possiamo subito vedere la tabella e vedere l'applicazione di questa tabella. come applicazione partiamo dalla reazione del solfato dell'acido solforico che reagisce con l'idrossido di alluminio. L'idrossido di alluminio è questo, vedete ci sono tre idrogeni, OH, meno 1, significa fare 3, meno 1, il risultato è 2, 2 che cosa vuol dire? che per quanto riguarda i sali basici avremo due possibilità, e cioè il sale monobasico e il sale bibasico, quindi 2 serve per valutare in questa tabella quanti sali si ottengono e i sali che si ottengono se 2 sarà bibasico e monobasico. Se invece, per quanto riguarda l'acido, che cosa dovremmo fare? Il numero degli idrogeni è meno 1, quindi 2, meno 1, 1, che cosa avremo? Solo un sale acido che è monoacido. Ovviamente, se il numero degli OH fosse uguale a 1, tipo idrossido di sodio, di potassio e via dicendo, 1, meno 1, 0, quindi gli idrossidi che hanno solo un ossidrile, ovviamente non formeranno sali basici e gli acidi in cui è presente solo un atomo di idrogeno nella molecola, sfruttando se c'è solo un idrogeno avremo 1, meno 1, 0, e quindi anche in questo caso, questo l'acido che possiede solo un idrogeno non potrò dei sali acidi. Torniamo al nostro esempio del solfato d'alluminio, che cosa dovete fare? Cominciamo ad analizzare questi due sali basici che ci possono essere. Quindi abbiamo fatto 2, abbiamo ottenuto OH-1, abbiamo ottenuto 2, 2 significa sale monobasico e sale bibasico. A questo punto, nei riquadri, vedete tutta la procedura necessaria per costruire correttamente la molecola. Per costruire la molecola, che cosa facciamo? Prima possibilità, monobasico, mono, che cosa vuol dire? Io lascio attaccato al metallo 1OH, 3-1, 2, quindi la valenza, che si basa su 2, coincide con il numero degli OH staccati, 3-1, 2, quindi noi che cosa avremo? Che è ALOH, vale questo, ha valenza 2. Il nome su quello che rimane, mono, basico, perché gliene lascio 1, la valenza su quello che è andato via, 2, perché si sono staccati 2 OH. Per quanto riguarda il gruppo acido, non ci sono problemi, in questo caso, vedete, H2SO4, nei sali basici, perde tutti gli idrogeni, e quindi automaticamente costruisco qui sotto la formula, scrivendo sopra le valenze, incrocio, in questo caso le valenze incrociate sono 2 e 2, si possono semplificare, vanno via anche quindi le parentesi che sono state utilizzate, io ottengo il sale monobasico. In questo caso, invece, bi-basico, che cosa vuol dire? Che io lascio 2 OH. Qui ce ne sono 3 all'inizio, gli hanno lasciati 2, 3-2, 1, se ne è staccato 1, quindi la valenza sarà 1. Per il gruppo acido, in questo caso, la stessa cosa è esattamente come prima, cioè la valenza 2. Quindi, vedete, è soquato con la sua solita valenza 2, a LOH2 con la valenza 1. Notate che in questo caso, ho dovuto addirittura utilizzare delle parentesi quadre. Infatti, ho dovuto utilizzare la parentesi quadre che si riferisce a tutto questo gruppo, perché all'interno avrà già stata usata la parentesi tonda per sottolineare che gli OH erano 2, perché bi-basico, che cosa vuol dire? Che io ho lasciato 2 OH. Vedete bene, quindi, qua sopra ho scritto la valenza, perché si è staccato 1 OH e 1, qui ci sono i due idrogeni, qui c'è valenza 2, perché si sono staccati i due idrogeni, incrocio, non posso semplificare, questo è il risultato finale. In questo riquadro potete benissimo vedere quali sarà, che alluminio avrebbe valenza 3, ma, se io lascio 1 OH, e questo che cosa sarà? Il sale monobasico, la valenza utilizzabile per il gruppo acido che si aggancia sarà 2, se io invece lascio 2 OH, la valenza utilizzabile per SO4 sarà 1, ma SO4 avendo valenza 2, richiederà un altro alluminio per poter saturare tutte e due le sue valenze. A questo punto abbiamo ottenuto la formula dei due sali, possiamo scrivere il nome, come vi dicevo prima, si inserisce tra la parte derivata dall'acido, solfato, e la parte derivata dall'idrossido, di alluminio, nel primo caso che ho lasciato 1 OH monobasico, nel secondo caso in cui ho lasciato 2 OH, il termine è bibasico. Ho costruito il sale prima, o, qui prima, come al solito, l'idrogeno e l'acido, e il bilanciamento procede esattamente usando le stesse tappe che abbiamo visto prima, cioè, dal sale, che sia acido o basico non conta, si ricava metallo o non metallo, vedete che in questo caso è sfacilissimo, il non metallo e l'acido e il metallo sono nello stesso rapporto, cioè 1, vedete che, quindi, non è necessario porre qui davanti nessun coefficiente, a questo punto, conto gli OH che ci sono, e conto gli H, vedete che nei sali acidi, e nei sali basici, e nei sali acidi che vedremo dopo, il numero degli OH non è uguale al numero degli H, infatti, qui ci sono più OH rispetto agli H, quelli che, gli OH, che si possono agganciare con un H, formano le molecole d'acqua, da cui vedete che si formeranno due molecole d'acqua, rimane un OH, a cui non ha la possibilità di formare l'acqua, perché mancano gli idrogeni, e lo vedete, dove è andato a finire, è andato a finire nella molecola del sale, qui la stessa cosa, però è diverso, perché gli alleatomi di alluminio stavolta sono due, essendo due, per questo due che si trova vicino alla parentesi quadra, fuori della parentesi quadra, voi che cosa fate? Per bilanciare il metallo dovete mettere un due da questa parte, S continua a essere uno, quindi gli OH in tutto quanti saranno? Saranno due per tre, sei, gli idrogeni quanti saranno? Due, quante molecole d'acqua si potranno fare? Solamente due, e infatti vedete che qui abbiamo scritto due, evidenziato la costruzione di due molecole d'acqua, e qui queste due molecole sono quelle che si trovano alla fine del bilanciamento, e questi quattro OH dove sono andati a finire? sono andati a inserire all'interno della molecola del sale. Vediamo ancora qualche esempio, così che possiamo, ah, dimenticavo, scusate, prima di andare avanti, avevamo detto che per questo tipo di idrossido, quello di alluminio, e per l'acido del acido ortofosforico, scusate, no, dell'acido solforico, assolutamente non esiste anche l'acido ortofosforico, ma solo ortofosforico, ma qui abbiamo l'acido solforico, vedete che c'era la possibilità di avere un solo sale acido, monoacido. Allora, di nuovo, attraverso questo quadrato, vedete che si costruisce per bene, prima di tutto, la formula del sale, in che modo? H2S gli lascia un monoacido, gli lascia un idrogeno. Quanti H si sono staccati? Quello che c'era prima, meno quello che è rimasto, 2-1 uguale a 1, vuol dire che un idrogeno si è staccato, e questa sarà la valenza del gruppo HSO4. In nome, monoacido, gli lascio 1, la valenza, che si basa su quello che si è staccato, è 1, quindi vedete, sotto un idrogeno, perché è monoacido, sopra 1, perché si è staccato un idrogeno. Per quanto riguarda la parte metallica, vedete, è LOH3, prima, dopo ho tolto tutti gli OH, quindi ovviamente la valenza sarà 3. Scrivo sopra L3, scrivo sopra HS1, introccio, e che cosa salta fuori? Il sale acido. Questo come si chiama? Come abbiamo visto, solfato monoacido di alluminio. Anche se possiamo avere questo potrare in inganno, ricordo che si può sostituire il termine monoacido che si trova in mezzo tra solfato e di alluminio, mettendo un termine B davanti al nome del sale. Quindi il solfato monoacido di alluminio si può anche chiamare bisolfato di alluminio. Sono molti gli elementi, i sali acidi, che sono comuni, diciamo, nelle nostre case. Basta pensare al bicarbonato di sodio che si usa per combattere l'acidità di stomaco, per disinfettare e lavare correttamente la frutta, e i bisolfiti, che sono sali che si usano per rallentare la fermentazione, per esempio, del vino. È un antifermentativo. Vedete qui sotto, prima di procedere al bilanciamento, vedete qua sotto la struttura di questo sale, vedete che dall'alluminio partono i tre ganci, perché l'alluminio ha tre valenza tre, dal gruppo HSO4, avendo perso solo un idrogeno, c'è solo una valenza libera, e vedete che tre HSO4 saturano completamente le tre, e perfettamente, le tre valenze libere dell'alluminio. Vedete il bilanciamento, come al solito, partiamo dalla formula del sale, andiamo a vedere metallo e non metallo, alluminio ce n'è uno, S ce ne sono tre, basandosi su questo pedice più esterno, quindi uno e tre, l'abbiamo sistemati. valutiamo il numero degli OH, tre OH e il numero degli H sarà tre per due sei, che cosa succede? Questi tre OH possono combinarsi con questi tre H, per formare tre molecole d'acqua, ci sono tre idrogeni, che invece non possono formare molecole d'acqua, perché mancano gli OH, e sono quelli che vanno a finire all'interno della molecola. vediamo ancora un esempio, l'acido, il sale, l'ortofosfato rameoso, vedete bene che in questo sale, valutiamo subito, ortofosfato rameoso, l'idrossido rameoso è questo, 1H, 1-1 da 0, e infatti non potremo avere nessun sale in mondo basico, che deriva da questo idrossido. l'acido H3 più 4, 3-1 uguale a 2, quindi avremo un sale monoacido e un sale biacido. In base a quello che è scritto in questa tabella, in questo schema qua sotto, vedete la formula del sale monoacido, H3 più 4, monoacido, gli lasciamo un idrogeno, 3-1 lasciato 2, 2 sarà la valenza, e vedete che qui sopra è scritto valenza 2. Il rame non può avere che valenza 1 perché perde solo 1H, qui avremo 2 e 1, incrociamo e otteniamo questo che sarà il sale monoacido. Se invece è sale biacido, che cosa vuol dire? Che gli lasciamo due idrogeni. 3-2 vuol dire che si è staccato un solo idrogeno e 1 sarà la valenza. posizioniamo 1, il rame continua ad avere valenza 1, incrociamo e vedete che posizionando l'1 in questa posizione automaticamente anche la parentesi tonda diventa inutile e quindi abbiamo ottenuto il sale senza neanche utilizzare delle parentesi tonde. Questo sarà l'ortofosfato biacido rameoso, questo che cosa sarà? l'ortofosfato monoacido rameoso. Adesso vediamo la solita formula di struttura, questo vedete che HPO4 ha perso due idrogeni, quindi ha valenza 2, il rame ha solo valenza 1, quindi per saturare queste due valenze sono necessari due atomi di rame, analogamente avete che qui è presente una sola valenza libera perché si è staccato solo un idrogeno, un atomo di rame e basta per saturare e avete quindi questa è la formula del sale biacido. Scrivete sostituiamo nel luogo corretto della reazione i due possibili sali e procediamo al bilanciamento al solito modo, partendo dal sale, in questo caso il sale monoacido, andiamo a vedere metallo e non metallo, sistemiamo metallo e non metallo, andiamo a vedere e poi gli OH e gli H che sono presenti, qui è stata saltata la fase in cui si fa vedere che questi due si legano, ma essendo riquadrato mi sembra abbastanza ovvio che si formeranno le molecole d'acqua, quante molecole d'acqua si formano? Due. Quanti idrogeni stanno fuori? In questo caso uno ed è quello che va a finire dentro il sale. Se noi invece abbiamo il sale biacido, si parte da un sale in cui c'è solo un atomo di rame e un atomo di fosforo, il numero degli OH sarà pari a 1, il numero degli H3, degli idrogeni sarà 3, ma si formerà solo una molecola d'acqua e ci saranno due idrogeni che non potranno formare molecole d'acqua e che vanno a finire dentro la molecola del sale. spero che questi esempi di reazione di salificazione vi siano sufficientemente chiari. Vi ricordo che nel ciclo di interrogazioni che adesso dovete affrontare che cosa vi viene fornito? Vi viene fornito l'elemento metallico con la valenza da utilizzare, tutte le valenze, ma specificata la valenza da usare, vi viene indicato l'elemento non metallico e anche in questo caso tutte le valenze e solo la valenza da utilizzare, attraverso questi due elementi dovete fare tutte le reazioni possibili di salificazione dei sali neutri, quindi i quattro casi che abbiamo già visto e tutti i sali acidi e basici che si possono ottenere partendo dai due elementi in questione. Buon lavoro e buono studio lo io qui che è adesso vediamo gli ultimi diametri